Chi volesse vedere contenuti inediti inerenti al podcast può trovare sul nostro profilo Instagram One More Time Podcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in descrizione. Io sono Luca e questo è One More Time. E' un rapporto che poi si è un po' complicato nel tempo. La politica ci ha divisi, però io la riconoscenza che provo ancora oggi per questa fiducia di cui sono stato il destinatario a 29 anni è una cosa che non ho provato mai per nessuno. Quando succede che il capo di una grande azienda con migliaia di dipendenti chiami un ragazzino e gli dica fai tu? Insomma succede molto di rato. Da quanto tempo? Ti ho conosciuto nella fase precedente. Nell'altra vita. Nell'altra vita, ma adesso partiamo dall'inizio. Mi hai detto che tu hai visto una puntata, quella di Andrea Pezzi. Sì, sì. E ci sono un po' perso, perché Andrea è uno che parte, parla molto, parla bene. E ha insomma anche un bagaglio culturale che colpisce. Non avete mai lavorato insieme nella tua precedente vita? Ci siamo tante volte sfiorati e ho anche molta simpatia per lui. Il mio modo di chiacchierare sarà diverso, però anticipo. Ok. Mi piace, nel senso che io amo le relazioni, la parte umana, quindi vorrei parlare con Giorgio, perché quello che faccio io per prepararmi è chiedere ai miei autori di fare una pre-intervista. In questo caso non l'hanno fatta con te, ma con un'altra persona. Si sono sbagliati? No, ci ha dato, credo, delle buone indicazioni. Ah, con un altro che mi conosce. Con una persona della tua vita, della tua sfera lavorativa. Ok. Dopodiché cercano in rete e cerchiamo dei video, normalmente. Io dai video riesco a capire quello che la persona non sta dicendo e quindi ho delle piste da seguire. Con te non ce ne sono, nel senso che ho trovato un'intervista di 5 minuti di 6 anni fa quando parli del tuo rapporto con Berlusconi, quando lavoravi per la Becky Insegna Field Invest e spieghi la tua escalation, ma la raccontiamo dopo. Degli auguri di Natale che tu fai in qualità di sindaco qualche mese fa, cioè non c'è nulla di intimo. Quindi tendenzialmente oggi sarà una versione inedita il fatto che tu mi parli in maniera diversa. Per me è molto funzionale. Vorrei farti spogliare dalla tua carica, dalla tua corazza anche, e parlare con la persona. Perché la cosa che dico sempre di te, che dicono anche gli altri soprattutto, cioè chissà un po' di tv, è questo signore a 31 anni, faceva il direttore di Canale 5, che è una cosa molto insolita, molto strana. Però partiamo dall'inizio perché mi piacerebbe spiegare l'escursus. Perché tu arrivi in determinati mondi e poi sei adesso tornato all'origine perché tu sei nato a Bergamo, poi sei andato a vivere altrove per una decina d'anni e poi sei tornato? No, no, no. Vai, racconta tu. Da dove poi parliamo? Quando nasci? In che anno? E poi... Ha proprio inizio. Ha proprio all'inizio, come nelle favole. Sono nato a Bergamo il 24 marzo 1960, quindi 63 anni fa. Mentre lo dico mi fa un po' impressione, dico la verità, perché io non mi ci sento affatto ad essere quasi over 65. E quello è un po' il limite, per cui le persone anziane, lo dico spesso quando parlo di questi temi, hanno dai 65 anni su, io ci sono quasi arrivato. Però mi spieghi la formula, tu come ci arrivi così giovane alla tua età? Perché dormi tanto, mangi bene, fai sport, ti rasi bene tutti i giorni? Nulla in particolare, nulla in particolare, lavoro tanto, lavoro tanto e questo secondo me... Ti tiene in vita? Penso di sì. Ho visto delle persone arrivare molto oltre questa età, cioè arrivare agli 80, 90, soprattutto gente di teatro. Mi ha colpito che fossero ancora in scena a quell'età con una memoria perfetta rispetto al copione. e ho pensato, vedi, insomma, secondo me il fatto di continuare a lavorare aiuta. E viceversa delle persone che sono andate in pensione, quando insomma il tempo lo consentiva, che si sono rapidamente spente. Quindi il mio proposito, lo anticipo, è di non considerare l'età della pensione. Quindi non è che continuerò a fare quello che sto facendo, anzi, sto quasi finendo. Parli di mandato? Il mandato, sì. Il mio lavoro di sindaco è, insomma, ormai quasi alla fine, manca un anno. Che sarebbe il secondo? Sì. Quindi avresti fatto poi dieci anni? Dieci anni. E poi penseremo a fare delle altre cose. Ritornando a 63 anni fa? A 1960, nasco a Bergamo, però la mia famiglia, i miei genitori vivono a Mestre, a Venezia. Ok. Perché mio papà lavorava all'epoca in Montedison, a Porto Marghera. Che lavoro faceva? Era un impiegato della Montedison, un chimico, che lavorava appunto in quella grande industria chimica che era allora la Montecatini e Edison di Marghera. Bergamaschi entrambi i miei genitori che però appunto si erano trasferiti per questa cosa di lavoro. Mia mamma insegnante di inglese, quindi una famiglia molto normale. E fratelli e sorelle? Sono in primo genito e ho due fratelli maschi nati rispettivamente tre e cinque anni dopo di me, con i quali sono molto legato ancora oggi. E niente, quindi siamo una famiglia che si fa via via più numerosa. Viviamo a Mestre fino al 1970, quindi fino a che io ho dieci anni. torniamo ogni quindici giorni a trovare i nonni a Bergamo. E di quel periodo io ti posso dire solo che ho un ricordo di un'infanzia proprio serena. Rispetto a questo avrei una domanda, che è una domanda che forse è l'unica domanda ricorrente nei miei podcast. Come è rimesso a coccole? Molte, molte. Da parte di papà e mamma? Sì, sì. Poi mamma più fisica, una persona molto solare, molto curiosa, molto vorace della vita, interessata a far tutto, molto aperta. Papà invece un po' più introverso, come carattere un po' più chiuso, una persona però di sentimenti profondi, quindi affettuoso a sua volta. Nelle famiglie in cui i genitori maschi lavorano a tempo pieno e le mamme fanno dei lavori invece un po' meno, che le assorbono meno, poi le mamme sono più presenti con i bambini, quindi il mio ricordo di infanzia è più legato, se vuoi, alla frequentazione di mia mamma. Era lei che mi portava ai giardini, con la quale andavo a fare compere, che ne so. Però mio papà c'è sempre stato e proprio non mi sono mancate gli affetti, le coccole e così anche quando sono nati i miei fratelli, insomma è stato bello essere una famiglia numerosa. Quando poi ho fatto famiglia a mia volta e anch'io ho avuto tre figli, insomma mi è venuto molto naturale replicare quel modello. Mia moglie a sua volta viene da una famiglia in cui c'erano tre figli, una famiglia altrettanto unita. Abbiamo avuto entrambi, credo, l'esempio di genitori che si sono molto amati, che si sono spalleggiati l'un l'altro tutta la vita, quindi insomma è un imprinting forte, che non è una regola da cui uno non possa uscire ovviamente, però che credo ci abbiano entrambi un po' guidati nelle scelte e nell'indicare le nostre rispettive priorità. Parliamo della scuola, cioè come andavi a scuola? Raccontami la gioventù, l'adolescenza, fino alla maturità. Insomma sono stato appunto fino ai nove anni all'elementare a mestre, poi dalla quinta elementare in poi a Bergamo sempre, scuole pubbliche, liceo classico, sono sempre stato uno abbastanza bravo, non bravissimo, mai un primo della classe, non perché non potessi forse esserlo, ma perché ho sempre cercato di, insomma ho sempre bilanciato i miei interessi anche da bambino non ho mai studiato troppo, ho sempre cercato di studiare il giusto e con una certa facilità diciamo nella dimensione umanistica, quindi nell'espressione, nella scrittura, nello studio dell'italiano poi al liceo e magari qualche difficoltà in più invece sulla parte scientifica, che peraltro, come dirmi, è molto familiare, insomma mi piacciono i numeri, non ho, non sono come mia moglie che invece di fronte a qualunque cifra subito va in confusione. Sì, ci sono persone molto avverse all'argomento. Molto avverse, va bene, invece io no. E i tuoi interessi in adolescenza quali erano? La quale di qualunque ragazzino? L'equaterosa, sì certo. No, perché ci sono alcune persone che si svegliano un po' più tardi, no? No, 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 io mi sono svegliato subito, io avevo una fidanzatina elettiva, ovviamente non c'era neanche, probabilmente neanche uno scambio di sguardi o di parole già quando andavo all'asilo, quindi insomma non ho, e così è sempre stata la mia vita, ho sempre avuto delle ragazzi, bambine, ragazzine, ragazze, donne, delle quali sono stato nel tempo via via innamorato. Ma a cosa ti piaceva i videogiochi, lo sport? No, giocavo a calcio, giocavo al pallone, alla palla. In maniera amatoriale? Sì, assolutamente, non sono mai stato uno sportivo professionista, ci sono stati alcuni anni, parliamo già in età più adulta, in cui ho fatto atletica in termini di competizioni, quindi correvo, saltavo gli ostacoli, ma giusto per due o tre anni, non di più, insomma per il resto lo sport è sempre stato amatoriale, però insomma tornando indietro appunto in quegli anni, scuole elementari, scuole medie, mi piaceva molto giocare al pallone. Hai fatto fare atletica anche ai tuoi figli? Perché secondo me è un grandissimo sport da fare da giovanissimi, ti dà proprio l'impostazione, la postura, diventi coordinato in qualsiasi altro sport, secondo me è molto interessante. Insomma no, ha fatto vari sport anche loro, l'unica, la terza Angelica che ha fatto un po' di sport con più costanza, ha fatto ginnastica ritmica per qualche anno ed era un esercizio molto impegnativo, tanti allenamenti, molta disciplina, fino a che a un certo punto sei stufata, come spesso succede. E gli altri hanno fatto sport, ma così, sempre con molto divertimento. Quindi i miei interessi erano quelli, insomma stavo con i miei amici, giocavo a pallone, andavo a qualche festina, corteggiavo le mie compagne. Ti lasciavano uscire i tuoi genitori quando eri giovane? Sì, sì, sono sempre stato un ragazzino abbastanza responsabile, quindi si fidavano, poi avevo ovviamente, quando ero molto piccolo avevo qualche limite in più e poi progressivamente insomma sono stato libero di fare e di decidere. Dopo il diploma cosa fai? Dopo il diploma mi iscrivo a architettura. Avevo fatto una… A Milano? Sì, a Politecnico. Avevo fatto una tesina su Bauhaus per la maturità e quindi insomma avevo cominciato a coltivare l'interesse per quella disciplina che ancora oggi mi affascina moltissimo, perché penso che l'architettura sia una sintesi di creatività e concretezza, che poi ho ritrovato in tante altre cose che ho fatto nella vita, in cui la dimensione creativa è sempre stata presente ma in modo molto pragmatico, quindi non la creatività dell'artista puro, ma sempre un po' applicata. Però insomma mi iscrivo quindi a architettura Politecnico, comincio frequentando da studente pendolare, quindi trenno delle 7.08 da Bergamo per andare in aula alle otto e mezzo, in quello che è stato davvero un esercizio di sopravvivenza, cioè andare a frequentare il Politecnico negli anni dal 79, 84, 85, quando l'ho fatto io, serviva soprattutto per imparare a stare al mondo, più che per apprendere contenuti disciplinari. Ho fatto… Esperienza di vita. Tutti i miei esami li ho fatti abbastanza bene, ma bisognava sopravvivere. Riuscire a capire quando era convocato un appello, riuscire a iscriversi a quell'appello, riuscire ad occupare un posto in un'aula super affollata era già un esercizio complesso. E oggi penso che sia tutto l'opposto, cioè penso che invece i servizi universitari siano perfettamente efficienti, ma forse manca qualcosa, proprio questo tipo di insegnamento a chi lo frequenta. Bene, frequento architettura, via via mi appassiono rispetto all'urbanistica e quindi finirò facendo una tesi di pianificazione territoriale, disciplina che poi mi è tornata molto utile in questi anni facendo il sindaco. Ma in realtà io comincio a lavorare molto presto, quindi il mio primo lavoro risale, a parte diciamo i lavoretti fatti per guadagnarsi due soldi durante il liceo, insomma andavo al mercato della frutta a scaricare le cassette come tutti e poi un'estate ho lavorato in una fabbrica di birra. L'obiettivo era comprarmi il motorino, cioè comprarmi il ciao. E quindi insomma mia mamma mi ha detto senti va bene vai a lavorare. Conosceva i proprietari di questa azienda che faceva la birra Wunster, che aveva sede in città all'epoca. Lavoro alla catena di montaggio e il mio compito è prendere scatoloni che sono impilati piatti, dare loro forma, chiuderli e metterli sul nastro trasportatore che poi di lì a qualche metro insomma li avrebbe visti riempiti delle bottiglie che stavano su un altro nastro. Questo era il lavoro. 8 ore al giorno così da solo. Capisci cos'è l'alienazione della fabbrica? Perché a un certo punto le tue mani fanno un gesto e la tua testa è da un'altra parte. Questa è l'alienazione. Stava da un'altra parte ma non è del tutto disinteressata rispetto a quello che succede. Quindi quando succedeva che le bottiglie riempite di birra, tappate, scoppiassero, succedeva abbastanza spesso, veniva spontaneo alzarsi e andare a togliere magari dei cocci di vetri dal nastro trasportatore che impedivano alle altre bottiglie di continuare a fluire. Questa cosa l'ho fatta in alcune occasioni a un certo punto, visto che il pavimento era completamente bagnato della birra, delle bottiglie esplose, ho preso uno scivolone più finito, sono piombato a terra e mi sono reciso tendine, nervi di questa mano, mi sono fatto male. Risultato, finita l'esperienza da operaio in fabbrica, con l'assicurazione mi sono comprato però il cello. Hai capito? Poi invece nell'estate tra la seconda e terza ricerca, cioè tra i 17-18 anni, comincio a scrivere. Mi presento alla redazione del giornale di Bergamo, che era allora il quotidiano dell'Unione Industriali e chiedo di poter fare qualcosa e mi dicono sì, sì, guarda, puoi cominciare a fare una sostituzione estiva. E quindi i miei primi articoli scritti in quell'estate, di lì a qualche mese l'esperienza invece della TV locale, era il periodo in cui, 77-78, in cui nascevano un sacco di emittenti locali, ti ricorderai. TV locale per un po' di tempo, poi un po' di radio, dove facevo i notiziari. Facevi cosa vuol dire? Un lavoro di redazione, preparavi? È una buona domanda. Il lavoro del notiziario consisteva sostanzialmente nel prendere i giornali, io facevo il turno del pomeriggio perché spesso la mattina appunto stavo in università, giornali pomeriggio, uscivano allora la notte il Corriere d'Informazione, ritagliavo le notizie principali di territorio e quelle nazionali, in modo che ci fosse qualche notizia di inquadramento generale e poi le notizie locali e leggevo queste notizie dandogli un minimo di sequenza sensata e questo era il notizio. Ci mettevi la faccia? Ci andavi in onda? No, era radio. E quindi facevo i notiziari, li confezionavo e li leggevo. Esperienza interessante perché a un certo punto arriva un nuovo direttore Vittorio Feltri, il quale mi ascolta in onda mentre leggo notizie, adesso non saprei dirti di quale conflitto internazionale stessi riferendo, però ci stavano anche quelli, quindi se c'era una guerra come oggi l'Ucraina, dicevo cosa succede in Ucraina. Aspetta che io esca dalla postazione del radiogiornale e mi dice guarda, secondo me non va bene, tu di quali farmacie sono aperte e quali sono chiuse, vedrai che sarà molto meglio. Era un po' riduttivo forse, ma non aveva tutti i torti, nel senso che poi l'utilità concreta del notiziario fatto da una radio locale all'epoca era molto più questa che non quella di riferire notizie ritagliate da un giornale sulla guerra che si combatteva non so dove. Tutto questo per dirti che facevo l'università, ma in realtà lavoravo. Avevi già chiare le tue idee politiche in quel momento o no? Sì, sì perché non ti l'ho detto, ma insomma questo è un capitolo importante in realtà. I miei anni a liceo sono anni in cui ovviamente studio, sempre abbastanza bene, insomma a parte un paio di materie da riparare nel penultimo anno, allora si chiamava seconda liceo, adesso mi pare si chiami quarta liceo, come forse più naturale che sia, che erano greco e fisica e ho sempre portato a casa i risultati, magari facendo delle studiate pazzesche nottetempo prima di un'interrogazione programmata o prima di un esperimento. A Bergamo si dice esperimento, qua no, cioè il compito in classe a Bergamo si chiama esperimento. Questo però insomma sempre con discreti risultati, con grande invidia dei miei compagni che insomma si lamentavano il fatto che io studiassi poco e però all'ultimo fossi in grado sempre di recuperare. E in effetti è successo anche la maturità dove ho fatto una studiatona pazzesca e ho preso un risultato molto migliore della maggioranza dei miei compagni e anche di quelli molto più secchioni di me. Bene, studiavo ma principalmente facevo politica, nel senso che io sono arrivato al liceo a 14 anni e sono stato con me folgorato dall'interesse per la politica. La circostanza, il primo incontro fu un seminario che si teneva a scuola durante un'occupazione credo, 1974, dedicata al Cile. C'era stato il colpo di stato dei generali Pinochet che depone il governo Allende e su quella vicenda in tutto il mondo ci sono gli studenti si mobilitano, i partiti democratici eccetera. Quindi lì comincio ad ascoltare e mi avvicino ad un gruppo studentesco che era nato nel mio liceo classico Paolo Sarpi che si chiamava Azione e Libertà. Era un gruppo di ispirazione laica, oggi diremmo riformista, allora non si diceva riformista, ed è molto singolare rileggere i volantini di quegli anni che primi non li scrivevo io ma poi invece ne sono diventato quasi subito il leader e quindi ne ho scritti tanti, di Volantini, di Tazebao, di queste cose, e ritrovare esattamente il posizionamento politico che ho oggi, 40 anni fischia dopo, 50 anni dopo. Si parlava di politica in casa? Perché normalmente il tifo sportivo e l'orientamento politico è molto come dire figlio. No, io credo che i miei genitori votassero per la democrazia cristiana, qualche volta per il partito repubblicano e questo gruppo Azione e Libertà in effetti le prime riunioni ma soltanto per un breve periodo le fece nella sede del loro partito repubblicano, col quale però non aveva in realtà nessun rapporto se non quello appunto di utilizzarne una stanza. Però insomma aiuta per capire più o meno dove si collocasse nella geografia politica della prima repubblica, non era un movimento, un gruppo di matrice cattolica, non era certamente di destra, non era neanche di estrema sinistra, allora c'era il partito comunista quindi non eravamo comunisti. Stavamo diciamo tra i partiti laici e il PSI, tant'è che io poi sono stato per molto tempo un elettore del Partito Socialista Italiano, ma era un gruppo di studenti e quindi si occupava di palestre, di strutture per la ricerca, di mense, di cose che interessavano gli studenti. Fatto stare che questa cosa mi ha molto coinvolto e quindi la mia passione per la politica nasce certamente in quegli anni. Si sospende per un lunghissimo periodo perché poi dal momento in cui io in realtà vado all'università smetto di interessarmi di queste cose, non avevo più il tempo, lavoravo, studiavo, facevo tante cose e poi si riattiva come andremo a raccontare molti anni più tardi. Mi è venuta in mente la domanda perché hai parlato di Vittorio Feltri, quindi conoscendo ovviamente, essendo dichiarato il suo orientamento politico… Sì, ma non era così, cioè Vittorio Feltri è stato tante cose… No, volevo chiederti se influiva molto in un posto di lavoro il tuo orientamento. L'altro giorno leggevo il libro di Gagliani, perché il libro di Gagliani si riferisce più o meno ai tuoi stessi anni di quando tu cominci a lavorare e racconta il suo primo incontro con Silvio Berlusconi dove c'è la domanda, dove lui guardasse quale fosse il suo orizzonte. A me non è mai stato chiesto. No, non mi è mai stato chiesto anche se il lavoro che vado a fare dopo quelli che ho già raccontato e quindi a 21 anni il lavoro che intraprendo come redattore a tempo pieno a quel punto di un nuovo quotidiano che nasce a Bergamo, sostenuto dalla cooperativa dei giornalisti della quale entro a far parte, quel lavoro lì ha da un certo punto di vista una natura politica per me. Cioè avevo smesso di fare politica in modo diretto, avevo cominciato a scrivere, ne avevo la possibilità, lavoravo per le pagine di provincia, però facevo reportage, inchieste eccetera e raccontare la realtà, la realtà di territorio, quindi la realtà della mia città, della mia provincia, aveva un'intenzione politica in qualche modo. Mi sembrava che raccontando le cose si potesse contribuire a cambiare il mondo, lo dico con… Certo. Ero sicuramente molto ingenuo e quindi c'è anche dell'ingenuità in questo pensiero, però ci credevo insomma. Quel lavoro che mi dà soddisfazione, guadagno pochissimo, lo faccio da abusivo, così si diceva, cioè senza un contratto regolare per diversi anni, va in parallelo con gli studi universitari, quindi smetto sostanzialmente di frequentare Politecnico, vado a fare gli esami però con una certa regolarità, a un certo punto lo incrocio anche col servizio civile, per cui mi giostravo tra lavoro, servizio civile e esami all'università. Tutto questo si interrompe bruscamente nel gennaio del 1984, quando Vittorio Feltri di nuovo arriva, chiamato dall'editore che nel frattempo era cambiato a dirigere questo quotidiano e nel giro di due mesi mi fa fuori, cioè mi licenzia. Raccontandote le motivazioni o… Insomma… Tergiversando un po'. Ne ha usate nel tempo diverse. Quello che penso, insomma, per lì mi disse, ah mi dispiace, però io insomma ho cercato di difenderti ma non è stato possibile, sai hai scritto delle cose che qui… che però non mi spiega. In realtà poi con più libertà, visto che ci siamo incontrati tante altre volte negli anni successivi, mi ha detto, Gori era bravo, scriveva bene, però era un po' troppo di sinistra. Ecco, questo era… Era per questo che ti avevo fatto la domanda qualche minuto fa. Che lì abbia in qualche modo… Influito. Influito. Quindi tu ti laurei al Politecnico, non eserciti, non pratichi mai. Ma non ero ancora laureato, studiavo ancora, ero ancora in casa con i miei genitori, però insomma avevo l'ambizione di essere un po' indipendente. Ma il tuo sogno qual era in quel momento dove… Di fare giornalista. Ok. Io volevo fare quello. E hai fatto comunque architettura. E ho continuato a studiare, sì, stavo… avevo cominciato. Ma perché non hai switchato in una scuola di giornalismo? No, 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 no. Perché… Volevi portare a compimento quello che avevi cominciato. Sì, le due cose potevano stare insieme. Però io insomma nel frattempo, ti ripeto, lavoravo otto ore al giorno. Chiaro. O dieci ore al giorno, quindi insomma non era un passatempo. Fatto sta che questo licenziamento mi prende un po' in contropiede perché mi priva istantaneamente di quei pochi soldi che rappresentavano la mia indipendenza. Cioè io avevo una morosa, insomma, che avevo il piacere di portare al cinema cena, a fare qualche vacanza. E senza quei soldi lì dovevo tornare a chiedere ai miei genitori, non andava bene. Non andava bene perché non potevano o perché ti avevano insegnato altri tipi di valori? Non ho mai chiesto soldi a loro. Insomma ho sempre cercato di essere… Indipendente. Indipendente. Ovviamente quando ero piccolo mi pagavano tutto loro, ci mancherebbe, però appena ho potuto. Quindi insomma ho cercato di mettere insieme lavoretti, collaborazioni, scrivevo per Topolino, per Qui Turing, varie testate, insomma. Finché a un certo punto succede che rincontro, perché non era il primo passaggio, ce n'era già stato un altro ai tempi di Bergamo.tv, un vecchio amico bergamasco, più grande di me, di una decina d'anni, che è Lorenzo Pelliccioli. Lorenzo Pelliccioli oggi è caduto presidente del gruppo di Agostini, dopo essere stato tante cose nella sua vita, un grande manager, e in quel periodo lì, scopro sfogliando un periodico locale, era diventato il direttore generale di Rete4. Rete4 era di Mondadori, non era ancora stata comprata da Berlusconi. Quindi siamo appunto nella primavera dell'84 e io mi precipito a telefonare a Lorenzo, che era stato appunto, che avevo frequentato negli anni precedenti, ma che era da qualche anno, si era spostato su Milano, cercando a tutti i costi un appuntamento. Insiste, insiste, sta segretario, non me lo passava mai. Finché a un certo punto chiamandolo da una cabina del telefono di Londra, quindi con i gettoni, non so che gettoni inglesi, seguo le cabine rosse, riesco finalmente a farmelo passare e lui mi concede un appuntamento, mi presento qualche giorno dopo e il destino vuole che mi apra una possibilità che poi è stata decisiva per la mia vita. Cioè mi dice, guarda, abbiamo assunto da poco un uomo straordinario, un genio dei parincesti, si chiama Carlo Freccero. Stava prima a Canali 5, adesso sta con noi, è geniale, però insomma è un po' originale anche e quindi ci piacerebbe che qualcuno si mettesse a suo fianco e imparasse il mestiere, perché insomma non ci debba essere soltanto lui. Cosa che io provo a fare. Quindi mi fa un contratto di sei mesi, credo non di più, con questo mandato. Però è stato un buon maestro, avrai imparato tante cose, no? Con Freccero. In quei sei mesi, anzi sono stati meno di sei mesi come ti dico, perché cosa succede? Io mi metto con tutta la buona volontà a seguire Carlo, che però era davvero un po' impegnativo, perché lui tendenzialmente si presentava in ufficio al tramonto e lavorava fino a notte forno. Io timbravo il cartellino, quindi io dovevo arrivare la mattina in orario d'ufficio, fare tutta la giornata sostanzialmente da solo ed è stato lì che ho cominciato a guardarmi cassette su cassette di Dynasty e di Team per farmi un minimo di cultura televisiva che non avevo, perché io, anzi… Leggevi giornali, leggevi libri ma non guardabili. Sono stati mesi in cui io pian piano ho cercato di familiarizzare con il paradigma della televisione commerciale, che mi era molto estraneo. Anzi, per quelli che erano i miei valori, le mie convinzioni politiche, diciamo che all'inizio ci ho fatto un po' fatica, salvo poi trovarmi molto bene, ma all'inizio non è stato proprio banale. Cioè la televisione che si fa per raccogliere spettatori che poi vendi al mercato della pubblicità era, insomma, un mondo per me tutto da scoprire. Però, insomma, sicuramente ho imparato delle cose anche soltanto così, a vedere all'opera la sensibilità di Carlo rispetto al prodotto televisivo, insomma, la fantasia che era in grado di applicare all'organizzazione del paninsesto o come poteva restare per tre giorni a cercare il titolo di un telefilm, ossessivamente. Però ti dico, non arrivo neanche in fondo perché durante l'estate, durante quei 15 giorni di ferie che mi erano stati concessi, Berlusconi compra Rete4. Quindi io apprendo dai giornali, mentre sono, non mi ricordo dove, che la tv era passata di mano e uno più uno, i contratti a tempo determinato sono sempre gli ultimi che vengono onorati, giustamente si dà priorità a chi invece ha impieghi stabili e quindi ho detto, benissimo, sono di nuovo a casa. E invece no, perché è successo che... Un lavoretto, una relazione che io avevo tratto dalla questa visione di decine di puntate di A-Team, te lo ricordi? E certo, Mr. T, diciamo il telefilm più stereotipato del mondo, dove le trame erano una uguale all'altra, non di meno io avevo cercato di provare a tirare fuori una logica, quindi di ogni puntata avevo tratto una scheda con la trama, poi c'era il dato d'ascolto, perché la puntata è già andata in onda, la controprogrammazione e quindi cercavo di trarre degli elementi di conoscenza dalla, come dire, quella puntata ha fatto due punti in più probabilmente perché nella trama Mr. T, non so, si alza una fattina presto con un mal di testa, una totale stupidaggia, secondo me. Ma questo potevo fare, non avevo nessuno che peraltro mi guidasse, quindi l'ho fatta spontaneamente. Ne ho stampate 4-5 copie, ne ho date una ovviamente a Carlo che era il mio capo e poi ad altri manager che più o meno giravano nell'area della direzione generale. Uno di questi, una persona che non c'è più oggi, che si chiama Lillo Tombolini, forse l'hai mai sentito nominare? Certo. È stato un manager poi della Sette negli ultimi anni. È stato un po' l'ufficiale di collegamento, cioè quando Berlusconi compra Rete4, chiama Tombolini e gli dice dimmi tu chi sono quelli bravi, quelli no, così insomma cerchiamo di agevolare il trasferimento delle persone. Lillo Tombolini trasloca dal centro edile di Segrate a Milano 2, sono due chilometri in linea d'aria, mette tutte le sue carte dentro uno scatolone e questo scatolone viene portato a Milano 2 e viene messo nell'ufficio sbagliato, cioè lo mettero anziché nell'ufficio destinato a Tombolini, nell'ufficio di Roberto Giovalli, il quale era in quel periodo il direttore dei palinsesti di Fininvest. Fininvest era Canale 5 e Italia 1, Rete4 non c'era ancora. Roberto arriva in ufficio, la mattina vede uno scatolone che non è suo, lo apre e in uno scatolone in cui ci saranno state, non so, 200 plichi di carte, documenti, eccetera, il primo, quello che trova appena aperto lo scatolone, era la relazione del sottoscritto su 18. La prende in mano, la sfoglia e dice, forse potrebbe essere utile una persona che si occupi di serie televisive e mi manda a chiamare. Quindi io a settembre di quel 1984 vengo chiamato e vado a colloquio a Milano 2, dove non ero mai stato in vita mia, incontro Roberto Giovalli e ne esco con un contratto a tempo indeterminato come redattore chiamato a occuparsi di tre film nella direzione del paninsesto. Quindi lì comincia… Il tuo primo contratto vero, diciamo. Davvero comincia l'avventura, nel senso che poi io da Roberto ho imparato moltissimo, era completamente diverso da Freccello, tanto il primo era irregolare, fantasioso, estroso, situazionista, tanto Roberto era un cervello elettronico, cioè una capacità di previsione degli ascolti impressionante, ma veramente impressionante. Cioè capacità di prevedere l'ascolto di un film in una serata in cui si componeva un certo quadro di controprogrammazione, non ti dico al decimale, ma quasi. E quindi capacità di formulare previsioni sul risultato complessivo dell'offerta delle reti che lui dirigeva, che ho visto tante volte centrare l'obiettivo in modo perfetto. Quindi lì faccio anni di apprendistato, quindi prima sono ovviamente l'ultimo arrivato, poi divento responsabile di quella redazione che si occupa di serie televisive, poi divento il vice di Roberto. Nel 1989 Roby litiga con Berlusconi, che era il suo capo e col quale aveva in precedenza un rapporto strettissimo, quasi filiale proprio, ma a un certo punto non si sopportavano più proprio e decide di andarsene. Poi tornerà varie volte, sarà incaricato di occuparsi di Telepiù all'inizio, tornerà ancora una terza volta come direttore di Italia 1 a fine degli anni 90, ma in quel momento rompe. Berlusconi chiama a me. Ho 29 anni, mi chiama ad Arcole e mi dice, fallo tu. L'avevi già conosciuto prima? L'avevo incontrato qualche volta, però mai una conversazione uno a uno. No, quindi l'avevo visto nelle convention, quando presentavo i palinsesti alle aziende o nelle cene, oppure in situazioni comunque pubbliche. Ma in modo privato. Pubbliche, pubbliche. E questo, devo dirti adesso che è successo recentemente di aver pensato molto al mio rapporto con Silvio Berlusconi, perché è mancato da poco, che è un rapporto che poi si è un po' complicato nel tempo, la politica ci ha divisi, però io la riconoscenza che provo ancora oggi per questa fiducia di cui sono stato il destinatario a 29 anni è una cosa che non ho provato mai per nessuno. Quando succede che il capo di una grande azienda con migliaia di dipendenti chiami un ragazzino e gli dica, fai tu. Insomma, succede molto di rado. Cosa vede in te Silvio Berlusconi? Cosa ti dice ad Arcole a casa sua quel giorno in cui ti fa passare di gallone, diciamo? Oh no, insomma, mi ha detto, guarda, mi hanno parlato bene di te, il lavoro lo conosci, sentiamoci spesso e... Prendi il timone. Prendi il timone. E quindi questo ho fatto. Poi in realtà il direttore del Parinsesto si occupava della programmazione, ma la responsabilità per esempio di tutte le produzioni, eccetera, restava in quel caso molto saldamente in capo a lui. Cambiano un po' le cose dal 91... Che lui era ancora estremamente attivo sulle sue aziende. Assolutamente sì, fino al 93, 94 lo è stato. Nel 91 succede che il Parlamento approva la legge MAMI, quindi regolamenta un ambiente televisivo che era stato molto disordinato fino a quel momento e impone l'individuazione di un direttore responsabile per ogni canale. Quindi un po' come i giornali, nascono i direttori di rete e i direttori di rete, mi viene da dire, di allora erano veramente direttori di rete, cioè erano un po' come i direttori di giornali. Io più di una volta ho posto la mia permanenza sul tavolo per far passare alcune scelte delle quali io ero convinto, cioè dicendo se volete prendete un altro direttore, ma finché direttore sono io si fa così. Secondo te quali caratteristiche dovrebbe avere un buon direttore di rete? Deve conoscere bene i suoi simili. Fare televisione significa principalmente conoscere le persone ed è una conoscenza che fai in parte in modo diretto, cioè ti devono piacere le persone. Se detesti di essere umani non è il mestiere per te. E molto attraverso i numeri, nel senso che la lettura quotidiana dei dati d'ascolto di ogni singolo programma che va in onda, del tuo canale e degli altri canali, della lettura, della curva d'ascolto minuto per minuto che rileva gli ingressi, le uscite, il fatto che la gente vada via quando c'è la pubblicità e poi torna e poi c'è un picco quando c'è un certo tipo di contenuto, ti racconta come funziona il gusto televisivo, che non è una cosa statica ovviamente, è una cosa che continua a cambiare, ed è una cosa sulla quale puoi continuare a sbagliare la tua previsione, perché immagini che se tu collochi un certo contenuto in un certo momento della giornata possa piacere all'X% delle persone, perché questo ti è richiesto di fare, cioè di tradurre questa tua consapevolezza in numeri e fare delle previsioni. Quindi tu prevedi che quel certo film o quel certo spettacolo faccia il 23-25% e poi scopri che fa il 12% e dici porca miseria, ho sbagliato, oppure sbagli per difetto e mi fa molto di più, ma tanto più sei bravo quanto più la tua previsione d'ascolto che nasce dalla tua sintonia col pubblico televisivo, che non è un monolite, è un insieme molto articolato, fatto di decine di milioni di persone, in quell'epoca a maggior ragione, se vuoi era un panorama televisivo molto più semplice, perché non c'erano le migliaia di reti che ci sono oggi, non c'erano le piattaforme, ma da quelle sette reti, tre Rai, tre Mediaset e poi di volta in volta c'era Odeon o la Sette, quel che è stato, insomma Euro TV, passava tutta l'Italia, tutti i giorni, cioè il totale dell'ascolto quotidiano di quelle sette reti era in termini di contatti 45 milioni di persone, cioè 45 milioni di persone diverse tra di loro passavano almeno un minuto guardando quelle televisioni e nell'arco di una settimana si arrivava praticamente alla totalità della popolazione italiana. Non c'era nulla di più simile ad una consultazione generale, neanche le elezioni politiche, perché quella è comunque riguardo dai 18 anni in su, così approfondita dell'opinione, come un costante sondaggio d'opinione fatto attraverso la reazione all'offerta televisiva. Quindi per te è stata una grande palestra passare dall'individuazione, dal palinsesso del contenuto alla direzione di rete, cioè è stata un'università pazzesca il passaggio prima, no? Sì, poi diciamo la direzione di rete significava occuparsi in modo un po' più diretto non soltanto della collocazione dei programmi e della loro scelta, cioè metto questo film, metto questa serie, lo metto un'ora prima, lo metto un'ora dopo, di come organizzare il flusso, ma anche lavorare sulla fattura dei programmi, quindi in particolare sulla tv di produzione, che Canale 5 diventa a maggior ragione dal 91 quando ha la diretta, perché prima non era una televisione in diretta, no? Quindi era tutto registrato. E lì nasce il telegiornale, insomma, quindi questo ho fatto. Quindi passi dalla direzione del palinsesto alla direzione della rete ammiraglia di Canale 5? Di Canale 5, due anni dopo, 91, ci resto fino al 96. Aspetta, ti faccio una domanda su quello. Se sei direttore di rete, la direzione del palinsesto prevale sulla scelta del contenuto? No, ma il direttore di rete è anche direttore del palinsesto, poi a quel punto c'era un coordinamento, però… Quindi non c'era più questa… No, 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 nascono come dei verticali e poi c'è un coordinamento che evita che le reti si facciano troppa competizione tra di loro, insomma, questo è sempre rimasto. Però, insomma, essendo il direttore dell'ammiraglia in qualche modo hai un po' una primazia rispetto alla scelta dei prodotti, dei film, del magazzino, eccetera. E niente, sono stati anni molto divertenti. I budget che hai nell'anno rispetto al contenuto li fai con la concessionaria o con l'editore? No, con l'editore ragiono di soldi che posso spendere. La concessionaria ha un suo budget che è legato ovviamente agli ascolti che io in qualche modo sono in grado di promettere. Certo, certo. Quindi io sono chiamato a produrre una griglia di parinsesso che è quella che la concessionaria va a vendere. Ovviamente c'è scritto film, non c'è scritto il singolo film, magari c'è, insomma, indicati una serie di titoli. Nel 91, quando ti promuovono a direttore di rete dell'ammiraglia, ritorni ad Arcore a colloquio con Berlusconi? No, ma io con Berlusconi a quel punto parlo tutti i giorni. Tutti i giorni e ogni venerdì in particolare siamo intorno al tavolo da pranzo di Arcore, il direttore di rete, i responsabili della concessionaria. Figure chiave dell'azienda. Le figure chiave e c'è riunione di parinsesto. Quindi dalle due e mezzo fino a sera, ogni venerdì si va ad Arcore. Quando ti rendi conto di essere particolarmente dotato, bravo nel tuo lavoro? Quando lo capisci? Qual è l'azione che tu fai dove, non tanto quando te lo riconoscono gli altri, quando lo capisci tu? Non te lo so dire, potrei dire che mi sono sempre sentito abbastanza bravo e sempre non abbastanza però, ma questo vale ancora oggi. Penso di essere un bravo sindaco ma di avere dei limiti, di non esserlo come mi piacerebbe esserlo. Sì, questo ti dà lo stimolo di progredire sempre. E questo è sempre stato. Quindi penso di essere stato un bravo direttore di rete, poi i risultati in qualche modo sono oggettivi. Quindi se prendi una rete e la porti ad essere la prima rete italiana, evidentemente qualche capacità ce l'hai. Mi sono sentito bravo quando nel 1996 ho scelto di passare da Canale 5 a Italia 1. Ho preso in mano una rete che era praticamente dico morta, però… In difficoltà. In difficoltà e grazie anche ovviamente all'investimento che l'azienda mi ha consentito di fare, in due anni abbiamo fatto una rete molto molto vivace. Quali sono stati gli ingredienti che hanno fatto questo switch? Insomma c'era una bella squadra, un po' di budget per fare produzione, la rete in precedenza era quasi tutta di prodotto di magazzino e sono nati tanti programmi belli. Ad esempio? Le Iene, è nato Fuego, è nato Sarabanda, è nato Maidiregol, è nata Matricole, Meteore… Vostre produzioni, format che non esistevano in precedenza. Format che non esistevano, le Iene era un format argentino in particolare, si chiama Caiga King Caiga e mi fa abbastanza specie che sono passati 20 quanti anni, sono passati dal 96 ad oggi, e ancora ci stanno le Iene su Italia. Ti faccio una domanda perché hai detto che a un certo punto quello che vi ha divisi a te e al presidente Berlusconi e sono stati anche gli ideali politici, te lo dico perché leggevo ieri sera, che non ricordo in quale momento degli anni 90, forse più o meno in prossimità della sua discesa in campo come politico, lui ti aveva chiesto di mandare in onda un servizio dove lui chiedeva a tutto il pubblico milanista di votarlo e tu ti sei rifiutato, è corretto? Sì, è corretto, più o meno è corretto, ti spiego. Io non sono mai stato in difficoltà in quell'azienda, nessuno mi ha mai chiesto per chi votassi, le mie idee erano le mie e l'azienda stessa aveva un obiettivo molto neutro, cioè aveva l'obiettivo del successo commerciale, doveva piacere alla maggioranza delle persone, non promuovere un'idea politica, tutto questo va avanti, quindi grande armonia fino al 93, cioè fino a quando Berlusconi decide che deve assumere un ruolo politico, non è questa la sede per richiamare perché l'abbia fatto, se ha fatto bene o fatto male, comunque così è, e decide che si gioca l'osso dal collo nelle elezioni del 1994, in pochi mesi deve mettere in piedi un partito politico, in pochi mesi deve guadagnare il consenso degli italiani, quindi si aspetta, forse anche giustificatamente dal suo punto di vista, che l'azienda stia tutta con lui e in effetti moltissima parte dell'azienda sta con lui, naturalmente Publitalia si trasforma in una forza vendita del partito e il marketing televisivo diventa marketing del partito, salvo alcuni rompiscatole che dicono no, aspetta un attimo, noi lavoriamo per il pubblico, siamo concessionari dallo Stato della possibilità di fare emittenza televisiva nazionale e in più immaginando che quell'avventura potesse non andare bene, poteva avere un senso tenere un po' di equilibrio, quindi non essere totalmente schierati. Questa cosa non succede con Italia 1 e Rete 4 che invece prendono una piega molto netta, ma su Canale 5 il direttore del telegiornale, il principale anchorman che è Maurizio Costanzo e il direttore di Rete provano a porre un argine a questa torsione propagandistica che Berlusconi prova ad imprimere e lì ci sono state un po' di tensioni comprensibilmente, lui si aspettava delle cose, noi gli dicevamo di no, per fortuna avevamo di innumi tutelari che si chiamano Fedele Confalonieri e Gianni Letta che pensavano saggiamente che non fosse il caso di forzare troppo sulla Rete Ammiraglia e quindi siamo riusciti a tenere un equilibrio secondo me, poi magari è successo che qualche conduttore si sia lasciato andare a delle dichiarazioni di parte, ma l'impianto della Rete è rimasto stabile e in quel more punto delle discussioni c'è quell'episodio che ricordavi tu, cioè Berlusconi nel giorno dell'epifania del 94 mi chiama e mi dice ma perché non hai ancora messo in onda lo speciale di Natale del Mila? Dico scusi, speciale di Natale del Mila uno, siamo all'epifania, quindi speciale di Natale non è più il tempo, due, l'hanno mandato in onda 40 volte su Italia 1 e su Rete 4, neanche fosse uno spot, tre, è uno spot, ed è uno spot politico, cioè il Milan è un po' il pretesto ma è chiaramente una cosa che ha una finalità elettorale, cioè Berlusconi è che baciava i bambini. Lui come si confrontava con te quando gli dicevi queste cose? Alla fine riuscivate a trovare la quadra? In quel caso no, nel senso che la telefonata non è finita bene, pazienza insomma, non mi ha cacciato. Poi vado Italia 1, ti ripeto due anni Italia 1 molto vivace e poi mi chiedono di tornare a Canale 5, quindi gli ultimi anni miei a Mediaset sono stati di nuovo a Canale 5, sono stati anni anche quelli, molto… Hai fatto il Grande Fratello lì? Ho fatto la prima edizione del Grande Fratello, quindi quella stagione, che è la stagione 2000-2001, è l'ultima mia, il Grande Fratello è la principale novità di quella stagione ma tutto il Parinsesso d'autunno del 2000 è strepitoso, perché in più c'è anche la Champions, c'è Scherzi a parte, cioè veramente una rete fortissima. Cioè era l'inizio di Scherzi a parte di Fatma Ruffini? Come non lo è mai più stata. E il primo Grande Fratello è stata un'avventura professionale molto appassionante, condivisa con Marco Bassetti, con Handemol, che era la prima società privata di produzione che in qualche modo realizzava una cosa, non conoscevamo i nomi delle società di produzione all'epoca, se ti ricordi. E soprattutto è stato un esperimento mediatico che ha assunto una valenza anche politica, Eugenio Scalfari tuona contro il Grande Fratello della prima pagina di Repubblica, noi chiamiamo dei consulenti che ci dessero anche argomenti per controbattere queste critiche e tra questi Umberto Galimberti, che è un filosofo, piuttosto che Fabrizio Rondolino, che è un grande esperto di comunicazione politica, quindi non era più televisione, stavamo facendo costume in qualche modo e quel programma, che poteva andare malissimo, ma che invece andò benissimo, in effetti ha rappresentato qualcosa di unico, anche per me personalmente, nel senso che il risultato del GF1, che finì con una share con gli 16 milioni di persone a guardare la puntata finale e una share se non sbaglio del 60%, è un ricordo incredibile, fu la cosa che mi fece pensare che era il tempo di andarsene. Poi ci sono altre ragioni, nel senso che nel frattempo a Mediaset era arrivato Pier Silvio Berlusconi, con il quale avevo buoni rapporti, ma che legittimamente secondo me aspirava ad avere a fianco dei manager nuovi, non quelli dell'epoca precedente, non quelli di suo padre. Quindi insomma si capiva che lui avrebbe preferito avere qualcun altro posto mio. Due, l'espload del grande fratello Eddie Endemol mi ha fatto pensare che forse in Italia c'era spazio per nuove società di produzione, quindi mi è venuta per la prima volta l'idea di fare l'imprenditore, che non avevo mai coltivato in precedenza. Tre, quel risultato così clamoroso è come se tu vincessi il triplete, che ne so, adesso per parlare di calcio, e tu dici basta, adesso devo andare via. No, ho vinto il campionato, la Coppa dei Campioni, la Coppa Italia nello stesso anno, non è che sto l'anno dopo, perché posso solo far di meno. E infatti così ho fatto. Mi sono dimesso da Mediaset e sono ripartito da una stanzetta con la fortuna di avere però accanto due persone straordinarie che tu conosci, che sono Ilaria Dallatana e Francesca Canetta, che erano le mie, braccio sinistro e braccio destro, prima Italia 1, poi a Canale 5, quindi avevamo già condiviso anni di lavoro, senza le quali io non avrei trovato il coraggio di buttare all'aria la mia vita, rinunciare a uno stipendio molto buono, come era quello che avevo a Canale 5, e ripartire con tantissimi rischi e poche certezze. E invece con loro mi sono sentito di provarci, l'avventura di Magnolia è durata dieci anni, per me da 2001 a 2011 è stata un'avventura molto fortunata. Cos'hai fatto con Magnolia solo per lasciare agli atti? Che forma ti hai portato nel nostro paese? Quali sono stati i colpi giusti? Vabbè, abbiamo fatto tantissimi di programmi che la gente conosce, c'è l'eredità che inonda ancora oggi, dal 2001, fare il presserale di Rai 1, abbiamo fatto l'Isola, abbiamo fatto le prime edizioni di X-Factor, abbiamo fatto le prime edizioni di Masterchef, abbiamo fatto programmi di ogni genere, abbiamo fatto anche dei programmi giornalistici, Piazza Pulita per dire un programma di Magnolia, abbiamo fatto tantissimi programmi sulle televisioni digitali, cioè su Discovery, su queste reti che all'inizio i grandi produttori non consideravano, perché in effetti i programmi erano piccoli, i budget altrettanto, i margini lo erano di più, però secondo me è stata una scommessa molto giusta, perché poi questi canali hanno via via invece guadagnato in consistenza, quindi Magnolia è partita da zero ed è diventata nel giro di dieci anni, un gruppo che faceva quasi 150 milioni di euro di fatturato, che dava lavoro a centinaia di persone e che a un certo punto abbiamo avuto la possibilità di collocare dentro un gruppo più grande, perché il gruppo di Agostini aveva scelto di investire nella televisione dopo che aveva venduto le assicurazioni Toro, mi ritrovai con Lorenzo Pelliccioli, stavo per dirtelo, ed era la terza volta, che incontrai in realtà per dirgli guarda abbiamo ricevuto un'offerta d'acquisto da parte di una società olandese, tu cosa ne dici? Aspetta un attimo, magari interessa a noi e così è andata, nel senso che il gruppo di Agostini a fine 2006-2007 ha acquistato la quota di maggioranza di Magnolia per poi completare l'acquisto negli anni successivi. Io sono rimasto per cinque anni, quindi fino a 2011, a fare l'amministratore delegato, che era l'impegno che avevo preso con la nuova proprietà. A quanto avete venduto? Non mi ricordo, però bene, diciamo che è stata la cosa che… Ma tanto penso sia pubblico. Sì, sì, ma davvero non sono omissivo, ma non vorrei dirti una cifra per un'altra. Sai perché te lo chiedo? Perché quando sono venuto a trovarti in Magnolia, io ti ho conosciuto in quel frangente, mi sono portato a casa un grande insegnamento che involontariamente tu mi hai dato. Ci siamo incontrati nel tuo ufficio ed era il momento in cui era molto in auge l'azienda, quindi i 150 milioni di fatturato di cui parli li stavo vivendo pienamente in quel momento. Tu avevi un ufficio molto umile, molto semplice e lì ho capito che la discrezione è la forma più potente e più strategica che ci possa essere, la discrezione nel senso volare bassi, raccontare poco e tirare poco fuori il petto. Lì me l'hai proprio insegnato perché io ho sempre un po' lottato per cercare più che di affermarmi, di inserirmi, di fare delle cose, quindi a volte le mie arringhe un po' sembravano quasi prepotenti e vedendo tu con la tua pacatezza quello che sei riuscito a costruire ho attinto molto da quei momenti e quindi ti ho fatto la domanda un po' per provocarti perché sai benissimo credo a quanto tu abbia venduto, però è un risultato straordinario e forse te ne devi prendere un po' il merito perché anche quando ti ho chiesto cosa vedeva in te Berlusconi hai glissato sulla domanda perché tendi a essere molto umile e tendi a essere come dici tu sicuro delle tue capacità ma molto spronante nei tuoi confronti nel non vivere mai di rendita su quello che hai fatto per cercare di performare sempre meglio. Comunque diciamo l'avventura di Magnoli è stata molto appassionante e metterei in cima due risultati. Il primo ha a che fare con le persone che ho incontrato e con le direi centinaia di ragazzi ai quali ho dato la possibilità, abbiamo dato perché poi davvero è stato, non mi voglio pegliare meriti che non ho, abbiamo dato la possibilità di imparare un lavoro, di cominciare a entrare in questo mondo e che oggi sono un po' dappertutto in tante società, hanno fatto fortuna, alcuni hanno creato le loro aziende, quindi insomma quella è stata davvero secondo me la cosa più bella. L'altra è che ho guadagnato la libertà di poter tornare a interessarmi della mia passione, cioè di quella che avevo lasciato anni addietro, cioè la politica e poterlo fare appunto. Nella tua città. Parlo di libertà perché il punto è fare politica in cui dipendi da qualcuno, devi compiacere, devi stare attaccato al carro di un potente perché se no non ti candidano e allora non ce la fai. Il punto è poterla fare con la totale libertà con cui l'ho potuta fare io, dicendo se non ci sono le condizioni da domani smetto, torno a fare qualcos'altro e questo me l'ha data Magnolia anche dei risultati economici che ha conseguito. Quindi insomma devo dirti dieci anni ben investiti, che sono finiti nel 2011, in un momento in cui le condizioni del nostro paese, che forse ricorderai il 2011 è l'anno in cui finisce l'ultimo governo Berlusconi in un modo direi abbastanza drammatico, cioè con lo spread fuori controllo, l'Europa molto preoccupata che scrive lettere, necessità di risanamento immediato dei conti pubblici e rischio di bancarotta, cioè una situazione brutta, in cui io mi sono detto ma insomma io posso stare qua ancora a occuparmi soltanto di me stesso, della mia azienda, della mia famiglia, poi tieni conto che secondo me creare lavoro è un ruolo molto politico o comunque ha una valenza sociale che io credo vada riconosciuta a tutti gli imprenditori, però mi sono sentito chiamato in causa in modo un po' più diretto, in realtà non è che sapessi bene come poter fare qualcosa di utile e ci ho messo un po' a mettere a fuoco il mio ruolo prima di capire che fare il sindaco, quindi in un contesto contenuto, dal punto di vista anche soltanto territoriale, forse la cosa giusta per me ci ho messo un paio d'anni e in quei due anni ho lavorato con Matteo Renzi, mi sono interessato di politica nazionale, ho studiato, ho un po' preparato un successivo decennio che è cominciato nel 2014 quando sono stato eletto la prima volta a Bergamo e che si conclude l'anno prossimo. Ti faccio una domanda perché vestito così mi ricordi molto Matteo Renzi, quando era presidente del consiglio, quindi camicia bianca, maniche rimboccate, cosa facevi esattamente per Matteo Renzi? Perché si dice che tu eri un ruolo molto strategico e so che forse non te ne vorrei prendere il merito, ma dicevano che avevi forse un termine un po' forte insegnato lui a comunicare, a parlare in pubblico, a essere incisivo. Ma non lo dico per modestia, perché non è successo proprio nel senso che Matteo Renzi era bravo il giorno in cui l'ho incontrato, è diventato più bravo mentre l'ho visto lavorare e io era uno delle persone che in qualche modo gli dava qualche dritta con la quale si confrontava, senza però mai davvero riuscire a incidere in modo rilevante. Questo è quello che penso io nelle sue scelte. Questo ti ha aiutato quel percorso lì a capire poi tu cosa avresti voluto fare nel mondo della politica? No, non tanto. Perché poi insomma il rapporto con Matteo che è passato dall'organizzazione di due o tre Leopolde, ovvero queste riunioni che lui fa a Firenze nella parte finale dell'anno, nella preparazione delle due primarie 2012-2013 che lui affrontò, la prima perdendole, la seconda vincendo, è stato un punto, un lavoro che non ho mai fatto da solo, c'è sempre stato un gruppo di persone e anzi non sono neanche riuscito, ti dirò, a fare quello che volevo con lui. Perché lui aveva l'idea che io dovessi dargli una mano sulla comunicazione, perché venivo dalla comunicazione. Matteo Renzi è una persona che ama moltissimo la televisione e che in particolare aveva vissuto da ragazzino la televisione che io avevo fatto e quindi quando noi ci siamo incontrati la prima volta, lo ricordo perfettamente, in un albergo di Roma, l'hotel Bernini, non ci conoscevamo, io pensavo di andare io da lui a cercare di conoscere, quindi volevo essere io quello che facevo le domande e invece ho subito da parte sua un interrogatorio su temi televisivi, quindi quella serie, quel personaggio, quel programma, quella sigla, eccetera. Ed era la sua convinzione quindi che io, essendo abbastanza bravo a fare televisione, potessi essergli utile sulla comunicazione. Io non l'ho mai pensato, perché credo di poter dire che riconoscevo a Matteo delle capacità comunicative, secondo me molto speciali. E quindi non aveva bisogno, e poi non era neanche tanto disposto ad ascoltare, secondo me non l'ho mai stato tanto. Ok. E quindi non era facile neanche, avendo dei consigli a dargli, riuscire a incidere. A incidere. E viceversa, sulla dimensione organizzativa, io credo avrei potuto essergli più utile se mi avesse consentito di fare quella parte. E invece lui non volle. Sostanzialmente decise che io dovevo stare sulla comunicazione, salvo poi ascoltare poco le cose che io gli dicevo. Quindi la mia funzione, tutto questo per dire che il mio ruolo nei confronti dell'ascesa, del successo di Matteo Renzi è stata molto sopravvalutata. Tra l'altro questa cosa ha anche creato qualche dissapore tra di noi, secondo me tutto superato. Però io non credo che lui abbia apprezzato più di tanto di leggere sui giornali un articolo che diceva Guru Gori, cioè come dire, Gori è il guru dei Renzi, perché non lo ero, né mi sarei mai sognato di farmi passare come tale e quindi insomma forse non gli ha fatto piacere leggerlo. Volevo mettere un attimo uno stop prima di parlare della politica, perché siccome la politica cambia il tuo carattere, cioè io vedendoti intervenire spesso ho visto che hai rotto le barriere della timidezza, forse appunto prima quando lavoravi dietro le quinte, o forse essendo sindaco e avendo a che fare con le persone tutti i giorni ti ha svezzato un po', lo vedo anche da come ti vesti, prima eri molto più formale, oggi sei più, sei elegante, ma relax, con delle scarpe ginniche sotto un abito, quindi figo, cioè nel senso ti rende ancora più giovane. Volevo parlare della timidezza rispetto all'incontro con tua moglie, se non sbaglio tu la conosci nel 92? Perché non abbiamo parlato di amore, ma... Sì, l'avevo incontrata l'anno prima, perché appunto ho cominciato a fare i primi esperimenti di telegiornale, canale di 5 News, eccetera, e lei che veniva dalla redazione sportiva, dove aveva condotto controcampo e altre rubriche di sport... Parliamo di Cristina Parodi perché magari molti non lo sanno. Parliamo di Cristina Parodi, sì. Cristina viene scelta per condurre il TG5 che nasce appunto nel gennaio del 92, io faccio il direttore di rete, lavoro molto con Enrico Mentana sul lancio del telegiornale, ovviamente i contenuti giornalistici sono tutti suoi, però sulla campagna di promozione, la sigla, tutta questa cosa qui lavoro pure io. Scenografia, tutta l'apparato, diciamo, la confezione del giornale. E quando il TG parte, seguo le prime edizioni, studio, partecipo, le riunioni di redazione. Questo tipo di cura, da parte del direttore di rete, rispetto alla nascita del primo vero telegiornale privato era più che giustificata. La mia permanenza all'edizione di mezzogiorno, all'edizione delle 20, all'edizione di mezzanotte, dopo un po' di giorni comincia a diventare sospetta, però Cristina conduceva in alternanza con Cesara Buonamici le 13 e la mezzanotte. Dopo 15 giorni, quando continuava a vedere che il direttore di rete si presenta per assistere all'edizione di mezzanotte, uno studio praticamente vuoto, tutto buio, due tecnici, lei che conduce, comincia a baggiare la foglia. Io non avevo il coraggio di dire cose più esplicite, quindi facevo lì, sfogliavo il giornale, ha preso il coraggio, ha preso il coraggio, avresti forse voglia andare al cinema. Carino. E così è stato. Quindi lì parte la storia con Cristina, ci siamo sposati tre anni dopo, nel 95, e abbiamo fatto come dicevo all'inizio tre figli. Sei riuscito a essere presente nella vita dei tuoi figli lavorando tanto? Sì, io penso di sì, io penso di sì. Ma ancora adesso sono per lo più in giro, perché Benedetta ha quasi 27 anni, sta a Londra, tra Londra e Cagliari, perché adesso sei iscritta anche ad un dottorato a Cagliari, a Londra, lavora per i giardini botanici, da ricercatrice è una botanica, un'etnobotanica anzi. Suo fratello Alessandro è in Spagna, ha finito di studiare da poco in Olanda, ma ha fatto gli ultimi periodi in una farm vicino Mursia, in Spagna, dove si occupa di agricoltura rigenerativa. La terza figlia, che si chiama Angelica, fa la cantante. Tra Bergamo e Milano è quella che vedo di più, fa una scuola di alta formazione musicale, ma nel frattempo scrive, compone, incide, eccetera. Non lo so, a me sembra di… ce li ho lontani, ma sono molto vicini. Quando il primo si è staccato dal nucleo familiare hai sofferto? Sì, soffro, perché ovviamente sono molto fisico, quindi ho proprio bisogno di averli vicini, quando ci sono, tocco molto. Però c'è modo, secondo me, usando la tecnologia, in questo caso aiuta moltissimo. Di rimanere connessi. Di rimanere connessi, per cui abbiamo le nostre chat di famiglia, abbiamo Instagram che mi dice dove sono, cosa fanno e magari vedo una foto loro, gli mando un messaggio, mi rispondono. Quindi abbiamo visibilità reciproca su quello che facciamo. Leggo un articolo, glielo mando. ultimamente, devo dire con Benedetta, c'è molto piacere anche a discutere, è una ragazza molto… Fa un podcast lei? Sì, fa un podcast, si chiama Flora, in cui parla di piante e delle piante, soprattutto delle piante alimentari, in rapporto alla nostra vita. In italiano lo fa? Lo fa in italiano, perché ha una collaborazione con Will Media e quindi fa questo podcast, mi sembra molto interessato, io lo trovo molto bello. ha una forte… una grande capacità divulgativa, che insomma si è scoperta recentemente perché non ha mai lavorato in comunicazione, però invece le cose che sa e che l'appassionano è proprio brava nel comunicarle, ti fa venire voglia di sentire. È ipnotica. Natale è riuscita a riunirvi a stare insieme, ci sono dei momenti di aggregazione della famiglia. A questo punto la casa diventa un luogo in cui vanno, vengono, ogni tanto passano, magari solo poche ore tra un luogo e l'altro. Sono fuori di casa ormai da parecchio tempo, i due grandi che fanno l'università hanno studiato fuori tutte e due e io ho cercato di agevolare la loro indipendenza, mi sembrano delle persone molto equilibrate. Quindi devo dirti che mi ritengo molto fortunato, credo che io e Cristina siamo stati molto fortunati con i ragazzi, lo dico perché penso a tanti amici che invece hanno avuto problemi, problemi magari anche di salute oppure di ragazzi difficili. Abbiamo avuto come tutti i genitori qualche passaggio un po' più complicato durante le loro adolescenze in cui sono un pochino più alla ricerca della loro dimensione, ma manifestano un forte senso di famiglia anche nella loro indipendenza, però insomma col piacere di tornare a casa. Chiudiamo con la carriera politica, ti candidi e vieni eletto al primo colpo o no? In realtà io l'anno prima avevo pensato, avevo fatto la campagna di Matteo Renzi nel 2013, lui aveva perso le prime anni, c'era ancora Bersani segretario, Bersani fa una specie di elezioni parlamentarie per selezionare i candidati per le elezioni politiche che sarebbero ottenuti a febbraio 2013. Io che appunto mi ero reso abbastanza visibile a Bergamo nei mesi precedenti, dico beh insomma mi candido e riuscirò a passare. Non sono passato, quindi sono arrivato quinto, ne passavano i primi quattro e quindi quei quattro sono andati a Roma in Parlamento perché poi automaticamente entravano in rista ed erano eletti, io sono questo Bergamo e quindi diciamo è lì che ho detto ma forse fare il sindaco mi sta un po' più giusto, mi si addice di più e col senno di poi dopo nove anni che lo faccio ti dico che non potevo essere davvero più fortunato nella possibilità di farlo, di farlo nella mia città, di trovare un mestiere così unico nel mettere insieme valori perché comunque ha una dimensione fortemente politica ovviamente, umanità perché sta in mezzo alle persone e concretezza perché a differenza di tanti altri lavori politici le cose le pensi, le decidi e con un po' di fatica male fai. Quindi questa è una dimensione unica, io credo che qualunque altra cosa farò mi mancherà questa concretezza. Nel 2014 sì, vengo eletto non al primo turno ma al ballottaggio, era candidato contro di me il sindaco uscente, che era un sindaco molto amato ma che forse la città cercava qualcosa di un po' più dinamico. La cosa più complicata per la verità non è stata affrontare il mio avversario ma è stato quello di convincere la mia parte politica che io potessi essere il loro candidato. Lo dico perché nei confronti del sottoscritto che veniva appunto dalla televisione, che aveva lavorato con Berlusconi, che aveva fatto due soldi, un po' di pregiudizi c'erano. Quindi diventare il candidato del centrosinistra per uno che aveva questa storia non era una cosa pacifica. Poi devo dire ho investito molto sul farmi conoscere di persona, sono andato dappertutto, ho parlato con tutti, l'aver stretto la distanza, essermi fatto conoscere come persona al di là di quello che avevano potuto leggere sul mio conto o dell'immagine un po' stereotipata che si erano formati di me e servito a convincerli. Quindi ho vinto le primarie e poi sono diventato il candidato e ho vinto le elezioni. E poi invece nel 2019, quando mi sono ricandidato, ho vinto subito il primo turno. Bene, ma insomma lì è stato un po' più facile perché in qualche modo c'erano cinque anni pregressi di risultati. Evidentemente la città era abbastanza contenta di come avevo lavorato, come avevamo lavorato e ci ha quindi premiati nel voto del 2019. Poi hai avuto modo di lavorare in un momento abbastanza drammatico con uno dei tuoi fratelli che è un primario durante il Covid, era la persona che tu hai designato, no? In quel momento molto particolare di contagi abbastanza… No, non l'ho designato Andrea. No, Andrea è un infettivologo, adesso lavora, è tornato da poco all'ospedale Sacco, è stato il primario di malattie infettive e policlinico negli ultimi anni, prima era a San Gerardo di Monza, è un professore universitario, devo dire, molto bravo nel suo lavoro. No, è stato il mio naturale referente, nel senso che in un periodo in cui eravamo travolti dal virus in una città, come sai, che è stata colpita più di ogni altra, credo in Europa, dal Covid e non capivamo e non sapevamo che cos'era, come dovevamo comportarci, eccetera. Il fatto di avere un fratello medico specializzato su questi temi, che in quel momento aveva i suoi problemi perché presidiava quattro pronto soccorsi della città di Milano, però mi offrivo un minimo di capacità di comprensione, insomma è stato in quel senso, l'ho designato come mio interlocutore, ma ovviamente non ho mai attribuito alcun incarico ad Andrea. Come ti ho chiesto quello che hai fatto in importante in televisione, te lo chiedo anche per la tua città, in questi nove anni, quali sono le cose di cui si è particolarmente orgoglioso di aver scaricato a terra, di aver realizzato concretamente? Le ho fatte tante. I miei cittadini, quelli più generosi nel giudizio, mi dicono, incontrandomi per strada, bravo sindaco, hai cambiato la città, hai scaravoltato la città e in effetti devo dire che abbiamo fatto un grande investimento sulla dimensione fisica proprio dello spazio pubblico, di luoghi, piazze, giardini, tante cose di cui la città discuteva da tempo immemore e ogni campagna elettorale era la stessa lista di cose che si sarebbero dovute fare, lo stadio, la sede della Galleria d'Arte Moderna, la caserma e questo e quell'altro e mai si facevano, hanno trovato in questi anni invece un loro esito concreto, quindi abbiamo fatto tanto. Devo dirti che però, anche se a me viene spontaneo probabilmente da architetto e da urbanista pensare alla città innanzitutto come un luogo, abbiamo cercato di lavorare anche sul suo contenuto, cioè sulle persone, e quindi si è fatto un grande lavoro di rivisitazione dei servizi alla persona e quindi delle politiche sociali in un quadro demografico che ci sta cambiando sotto gli occhi perché è visibile come le nostre città stiano invecchiando mediamente, come ci siano meno bambini, come il corpo sociale sia più frammentato, le famiglie più piccole e quindi come l'elemento di coesione che invece si può ricostruire attraverso le relazioni, nelle comunità, anche di quartiere, anche di via a volte, al di là dei servizi sociali erogati dall'amministrazione sia la chiave di quel benessere che poi alla fine è quello che cerchiamo di perseguire come obiettivo, ad evitare la solitudine e l'isolamento di tante persone che diversamente sarebbero appunto un po' perse. Quindi abbiamo lavorato su questi due piani principalmente, poi ne abbiamo fatte di tutti e di più, siamo capitale italiana della cultura, abbiamo investito tanto anche su questo perché penso che la cultura sia un forte elemento di coesione, abbiamo fatto crescere moltissimo l'attrattività turistica della città, abbiamo accompagnato la crescita dell'università perché io penso che l'università sia un attrattore di giovani e quindi la città che invecchia ha bisogno di giovani che peraltro sono poi quelli che ti sollecitano a lavorare anche sulla vivacità della vita pubblica, sull'investire negli eventi, nella musica, tante cose che a Bergamo non c'era e che adesso ci sono. E quindi è quasi tempo di voltare pagina un'altra volta. Concludo così esattamente, visto che tu hai sempre comunque, più che premeditato, studiato, perché studi molto il prossimo passo, a volte poi ci ritorni un decennio dopo, qual è il prossimo passo dopo il 2024? Insomma sono un po' un bivio, diciamo che ho chiaro cosa mi interessa e mi interessa occuparmi di temi demografici, a proposito, e di immigrazione. Non tanto dell'immigrazione o non solo dell'immigrazione come l'abbiamo conosciuta in questi anni, cioè come il problema dell'immigrazione, quanto delle migrazioni regolari e quindi della capacità di costruire dei rapporti legali, sani, con altri paesi da cui si muovono naturalmente, inevitabilmente, persone che cercano le miglior condizioni di vita per favorire la loro integrazione e in questo modo, in qualche modo, bilanciare le dinamiche demografiche che, come sai, sono per il nostro paese particolarmente preoccupanti. L'Italia, in assenza di flussi migratori molto sostenuti, è un paese che rischia da qui alla fine del secolo di perdere qualcosa come 30 milioni di abitanti. Vuol dire dimezzare gli abitanti del nostro paese, vuol dire un impoverimento clamoroso dell'Italia e di questo si è molto poco consapevoli. Ovviamente vanno fatte politiche pro natalità, ovviamente bisogna aiutare le famiglie, e le donne in particolare a poter conciliare vita lavorativa, dimensione familiare. Ci sono tante cose che vanno fatte, ma questo elemento, questa leva, cioè la migrazione regolare, non stiamo parlando di barconi, è una chiave, secondo me, ineliminabile. Anzi, va coltivata, come stanno facendo altri paesi, la Germania ha fatto recentemente una legge in questo senso, il Canada è un altro esempio molto interessante, per far sì che paesi che hanno invece una esplosione demografica, tipicamente i paesi africani, possano trovare una relazione win-win, mi verrebbe da dire, positiva per entrambi, sviluppo di questi paesi e al tempo stesso migrazione che può aiutare a sostenere il nostro modo di vivere. Il rischio che noi corriamo è la insostenibilità economica del nostro welfare, cioè di avere un sistema pensionistico che non sta più in piedi, sistema sanitario che non sta più in piedi, sistema dell'educazione che non sta più in piedi per mancanza di forza lavoro che lo alimenti attraverso le tasse e i contributi. Sto semplificando, ma questo è un po' il concetto. Quindi, aprirci con tutte le difficoltà che questa cosa comporta, perché è un processo complicatissimo, non va banalizzato, a una migrazione regolare, magari anche un po' selezionata di persone che già arrivano parlando la nostra lingua, che hanno già un loro mestiere e che si possono quindi integrare guadagnandosi onestamente da vivere a tanti livelli, perché noi avremo bisogno di medici, di magistrati, non sto parlando soltanto di magazzinieri o di facchini, attenzione. Questa è veramente una dimensione per noi strategica e di questo mi vorrei occupare. Come farlo non lo so ancora, cioè se questo si può fare attraverso un lavoro politico in Italia, in Europa, o se invece ci siano altre istituzioni nazionali o internazionali, penso per esempio a delle ONG che di questo si occupano, però è il mio interesse dei prossimi anni. Abbiamo finito, grazie a te, è stato un vero piacere. Grazie, grazie a te Luca. Vi ringrazio per essere arrivati fin qua, fino alla fine di questo episodio, che spero vi abbia restituito stimoli, delle belle vibes, vi siate identificati, medesimati e vi abbia potuto dare degli strumenti per potervi riconoscere, per poter andare avanti, per poter cadere meglio. Qui intorno a me vi suggerirò sempre, alla fine di ogni episodio, delle altre interviste affini all'argomento che abbiamo toccato. Buona visione.